È arrivato il momento per quanto riguarda il pranzo servito di dare una gustosa ricetta Con noi c'è Anna Lamonaca, Anna Cucca Speciale su Facebook e su Youtube Ciao Anna Ciao Pio, ciao a tutti Bentornata ai nostri microfoni Allora, cosa ci prepari di buono oggi? Allora, continuiamo con il filone natalizio Perché ormai manca davvero poco al Natale Quindi ho pensato ad altri deliziosi dolcetti Che non necessitano di cottura Che si realizzano in poco tempo Che sono facili, sono golosi E si preparano soprattutto con pochissimi ingredienti Quindi il mio consiglio è realizzarli in grandi quantità Perché spariscono subito, praticamente vanno letteralmente a truba E sono ottimi soprattutto se si lavora Se si ha poco tempo da dedicare in cucina E sono amati da grandi e piccini Perfetto, allora come si chiamano? I dolcetti alla crema spalmabile al cioccolato senza cottura Perfetto, perfetto Allora cominciamo con gli ingredienti Ingredienti per 12 dolcetti 150 grammi di biscotti secchi Sì 100 grammi di burro Crema spalmabile al cioccolato quanto basta Granella di nocciole quanto basta Ok Si messiamo all'opera Perfetto Sbricioliamo i biscotti molto finemente Facciamo sciogliere il burro a bagnomaria Una volta pronti Mischiamo questi due ingredienti Li lavoriamo bene con una spatola o un cucchiaio Prendiamo degli stampini per muffin Li riempiamo con il composto di biscotti fritati e di burro Una volta fatto questo Lasciamo al centro una cavità All'interno della quale andremo a mettere la crema al cioccolato Facciamo solidificare i biscotti per mezz'ora in frigo Dopodiché li riempiamo con la crema al cioccolato Li decoriamo con la granella di nocciole E li rimettiamo di nuovo in frigo E li facciamo riposare per circa due ore prima di servirli Diciamo che dopo le due ore sono pronti Quindi si possono conservare anche per alcuni giorni Possono essere preparati molto in anticipo E possono essere serviti quanto si vuole Praticamente sono di una golosità assurda Vanno a ruba Allora per parlare in questo modo Tu che comunque sei in grado di prepararli Significa che effettivamente sono buoni Di solito magari chi prepara un piatto Poi non sempre è disposto ad assaggiarlo o a mangiarlo Eh io li assaggio anche Con molti problemi anche per la linea Però ogni tanto si può fare uno strappo Esatto vale la pena concedersi ogni tanto qualche strappo Allora vogliamo ripetere il nome dei dolcetti e gli ingredienti Allora dolcetti alla crema al cioccolato senza cottura Perfetto Ingredienti per 12 dolcetti 150 grammi di biscotti secchi 100 grammi di burro Crema spalmabile al cioccolato Ce ne sono tante in giro Quanto basta Granella di nocciole quanto basta Perfetto E poi dicevi Se dovessero magari rimanere Ma non rimangono almeno nel mio caso Si possono conservare però tranquillamente Sì sì tranquillamente Per 4-5 giorni Perfetto Quindi si possono regalare anche Eh sì è un ottimo regalo natalizio magari Grazie mille Anna per essere stata con noi Grazie a voi Grazie a tutti Ciao ciao Salute ringrazio Anna Lamonaga I love you Radio Amore Napoli